Una buona serata, ben ritrovati a punto d'incontro. Questo appuntamento è dedicato oggi a un piccolo grande comune, a uno dei tanti comuni turistici di questa riviera Ligone, riviera di Ponente, che hanno magari spesso la struttura quasi del paese, ma anche i problemi della grossa città. Mi riferisco a San Bartolomeo al Mare ed è con noi il sindaco Valerio Urso. Buonasera, benvenuto sindaco. Grazie per il vostro invito. Dicevo così, un po' provocatoriamente, struttura quasi del paesone da un certo punto di vista, ma ahimè grande città perché soprattutto con il turismo, soprattutto nel momento estivo, i problemi non mancano. Le difficoltà lo sappiamo, i comuni ormai non sono posti di potere ambiti come un tempo. Fare il primo cittadino significa accollarsi in parecchie responsabilità. Una volta forse c'erano più onori, oggi sicuramente più oneri. A San Bartolomeo, a San Bart come va? Ma innanzitutto ti ringrazio di questa precisazione perché la trovo fondamentale, che la gente deve avere chiaro questo specchio fedele. San Bartolomeo è un piccolo paesino che soprattutto nei periodi di maggiore affluenza raffigura in tutto e per tutto una città medio grande, nel senso che comincia ad avere tecnicamente 12.000 abitanti equivalenti con punte di 24-25.000 abitanti. E quindi diventa decisamente impegnativo, ancora più impegnativo, cercare di strutturare tutti quelli che sono i servizi necessari affinché la gente non si lamenti sistematicamente. E la provincia d'Imperia su tanti di questi servizi essenziali molte volte ha avuto delle difficoltà, ha avuto degli inciampi. Basta di vedere la situazione del servizio idrico, siamo vincolati a un tubo, l'Acquedotto del Roia, che percorre questa provincia in lungo. Noi siamo il terminale ultimo e molte volte paghiamo delle disgrazie in termini di rotture che si concretizzano a distanze chilometriche. A monte, diciamo, rispetto a voi. E dobbiamo essere attenti, dobbiamo con sforzi decisamente importanti cercare di continuare ad erogare questo tipo di servizio. Da qui a far capire veramente alla gente che le forze che mettiamo in campo, le risorse economiche che mettiamo in campo finalizzate al mantenimento di questi servizi sono tante e devono essere ben gestite. Pensiamo che negli anni ci sia sempre stato un miglioramento in tal senso e confidiamo di migliorarci sempre più e di arrivare a ottenere dei risultati sempre migliori affinché San Bartolomeo qualitativamente possa essere sempre apprezzata. I dati alla mano lo testimoniano e credo che sotto questo aspetto siamo nella direzione giusta. La politica è sempre più bistrattata e i politici sono sempre più additati in modo negativo dai cittadini. Secondo lei si riuscirà a riavere una politica seria, quella con la più maiuscola, che poi è anche la base della democrazia, voglio dire, perché non è bello che la gente vada sempre meno a votare. E qui c'è l'influenza nazionale a livello locale. Lei la sente questa cosa sulla pelle da sindaco? La sento e comprendo perfettamente tutti quegli italiani che non stanno andando più a votare e quelli che si sono allontanati in modo netto dalla politica. Perché penso che gli esempi da non perseguire dei nostri legiferatori negli ultimi anni è stato decisamente gravemente insufficiente. Non può essere preso a nessun modello quello che sta accadendo a livello romano centrico. E di fatto tutte quelle loro, come dire, indicazioni che devono servire a noi amministratori locali, che lo facciamo solamente per l'amore che proviamo per il nostro paese e senza nessun altro fine, condanniamo che c'è poca, come dire, conoscenza territoriale e quindi di fatto non vengono dati degli strumenti adeguati affinché noi possiamo amministrare in buon modo. Come potremmo amministrare le risorse di casa nostra, usando la cosiddetta diligenza dei buon padri di famiglia. Abbiamo abusato, però anche questo colgo l'occasione per parlarne. Questa legge che ci sta vessando ormai da anni, questa legge di stabilità, che sembra ormai a tutti, agli occhi dei meno detti ai lavori, un alibi che noi ritroviamo. Ma purtroppo è un fardello che noi sistematicamente, giorno per giorno... Sì, avete dei vincoli, anche se ci sono dei soldi in cassa, più di quel tot non potete spendere. Non possiamo spendere, non possiamo assumere, non possiamo fare nulla di tutto questo. E quindi nel gestire queste poche risorse e mantenere questo stato di gradimento, di efficienza dei nostri paesi, a volte sono aspetti decisamente miracolosi. Ho paura che siamo passati un po' da un estremo all'altro, sindaco. Nel senso che nei periodi, per dirla la brutta, ma chiari, di vacche e grasse, forse un po' tutti hanno esagerato, qualcuno in modo particolare, sicuramente, rispetto ad altri. Perché poi ci sono stati i comuni virtuosi e questo nostro territorio ne ha tanti di esempi. Ma fatemi fare un esempio. E adesso siamo arrivati all'estremo opposto. Faccio un esempio. Si rischia addirittura di non avere i soldi per aggiustare il tubo che esplode. Nel 2002 c'era una misura che si chiamava Obiettivo 2, che erano soldi comunitari che arrivavano a... Quasi a pioggia. A pioggia, ma riuscivi a fare qualsiasi cosa. Mettendoci un minimo di grano salis nel voler sviluppare dei progetti, si ottenevano dei risultati straordinari. Io potrei ricordare che in quegli anni abbiamo concretizzato la difesa del territorio con le dighe foranee a San Bartolomeo, che hanno dato completamente un volto nuovo al waterfront di San Bartolomeo. Diano Marina, rifatto con l'aiuto del Cive e di alcuni parlamentari locali che si sono adoperati in quel periodo, ha dato un disegno nuovo a tutto il centro di Diano Marina, con dei risultati straordinari. E' un bellissimo salottino da vivere sistematicamente. Oggi come oggi, di quelle misure, siamo rimasti completamente a digiuno di tutto. Non abbiamo più un euro per poter lasciare andare la nostra fantasia, per migliorare i nostri territori, per promuoverli anche, promuoverli nel giusto modo. Ci siamo fatti scappare, a mio modo di vedere, anche se abbiamo partecipato, una vetrina come l'Expo. Siamo andati lì, io vi dico, come Regione Liguria e come tutti i comuni che hanno partecipato, veramente, mi sembrava un po' scarna come presentazione di quello che voleva essere. Poi vedevo i nostri competitor a livello europeo che ci lasciavano ad anni luce di distanza per quello che era la promozione del territorio, mettere nero su bianco e dimostrare a tutti le bellezze dei loro paesi. E noi potevamo fare altrettanto, perché sotto questo aspetto non siamo secondi a nessuno. Ligia Sindaco ha due anni rotti, più precedente esperienza, vice sindaco, eccetera. Ecco, ma parliamo dell'ultimo periodo. Siete riusciti a fare qualcosa? C'è un po' di carne messa al fuoco? La situazione qual è? Devo dire che quest'anno, devo dire anche con l'essenziale dose di fortuna, siamo riusciti a caratterizzarci con una variazione di bilancio decisamente corposa, intorno ai 650 mila euro, che usati, secondo me, con diligenza, con l'aiuto di tutti gli uffici competenti del Comune, e messi nelle situazioni di criticità, posizionati nei punti di interesse. Abbiamo sviluppato tante cose, abbiamo messo in ordine tante cose a San Bartolomeo che doverosamente da alcuni anni andavano fatte. Ci siamo riusciti, ne dico uno su tutte, abbiamo ripristinato in modo corretto le dighe foranee che avevano manifestato a seguito di mareggiate dei collassi, le abbiamo rimesse in ordine e quindi di fatto la difesa del territorio del waterfront viene fatta in modo più funzionale dal modello idraulico, quindi le spiagge non manifesteranno delle erosioni eccessive e quindi saranno più fruibili dai cittadini tutti. Abbiamo fatto tante opere di manutenzione, abbiamo un'attenzione particolare a quello che è il comparto delle manifestazioni e della promozione del territorio, non per niente lo dico con orgoglio e ringrazio fortemente il nostro ufficio manifestazioni perché si sta dimostrando all'altezza della situazione. L'anno scorso siamo stati premiati come miglior festival della regione Liguria andando davanti a competitori decisamente importanti come poteva essere il Comune di Genova, perché no la realtà del Tiguglio, perché no Portofino e tutti i suoi avvenimenti. Quindi per noi è un motivo d'orgoglio parlare di queste cose qui e dire che a San Bartolomeo al mare nel periodo estivo e nel periodo preestivo si lavora tanto per la promozione del territorio. L'anno scorso in 120 giorni abbiamo fatto 100 manifestazioni che hanno avuto un successo straordinario e quest'anno pensiamo di riconfermarci. Di replicare. Sicuramente sì. Adesso c'è un'opportunità che potrebbe anche nascondere qualche rischio come spesso accade. Il tracciato ferroviario. Quello nuovo sappiamo con questa stazione unica del Golfo dianese che riguarda anche voi, che non è proprio messa benissimo per quello che riguarda la viabilità, i collegamenti di un po' di problemi. Ci potrebbero essere l'opportunità di questo sedime ferroviario dismesso che però bisogna riutilizzare, bisogna farci qualcosa perché altrimenti rischia di diventare una striscia di rovi che ferisce forse ancora peggio di prima. Sicuramente. È una scommessa importante che questa amministrazione e tutte le amministrazioni a seguire dovranno farsi carico perché sarà la scommessa che delineerà il futuro della provincia di Imperia. Pensare di avere una pista ciclopedonale che va da Ospedaletti oggi e pensare di raggiungere Andorra e poi Finale Ligure sperando che anche il tracciato Andorra Finale Ligure invece riesca a vedere la sua luce anche se le notizie non sono delle più confortanti. Detto questo, sicuramente il nostro impegno per adoperarci affinché venga realizzata la pista ciclopedonale è forte e sarà fermo e deciso in tal senso. Detto questo, c'è anche un aspetto essenziale di questo sedime dismesso. Ormai da oltre 20 anni c'è un accordo di programma che tutto il Golfo dianese deve essere allacciato con le acque reflue al grande depuratore di Imperia. E questo fa già parte del cronoprogramma di Riviera Acque affinché ci sia un grande collettore che possa sollevarci da questo problema. È un problema perché nell'anno 2017 molti dei comuni costieri si ritrovano a non avere degli impianti di depurazione adeguati. Quindi l'allaccio a Imperia è fondamentale anche in termini di qualità ambientale e di fatto vuol dire di un apprezzamento turistico anche di immagine, certo, diventa fondamentale. Quindi sul sedime ferroviario dismesso sicuramente un'aduzione dell'acqua condotta in una sorta di doppio tubo che finalmente creerà quella sorta di bypass che nella denegata ipotesi che citavo prima di eventuali rotture possa permetterci di avere un'altra aduzione di acqua condotta da Arroia. Seconda battuta, non meno importante quello delle acque reflue dal comprensorio della Vallesteria perché noi abbiamo un piccolo consorzio che include San Bartolomeo, Cervo e Villa Faraldi che venga spinta verso il grande depuratore di Imperia così ottemperando quell'accordo di programma che ormai è datato di oltre 20 anni. E questo mi sento in grado di garantire ai cittadini tutti del Golfo Dianese che a breve vedrà la luce se rivierà acqua e manterrà come penso mantenga il cronoprogramma operativo che si è prefissato. Beh, intanto un sassolino dalle scalpe se l'è già levato con questa ferrovia perché c'era una battaglia atavica a San Bartolomeo al mare perché questa strada ferrata c'era un passaggio a livello l'unico 20 anni fa chiuso lì ci fu una guerra perché volevate tenere almeno il passaggio a livello a tutti i costi giustamente perché lì è diventato un muro immaricabile e non ci siete riusciti però adesso vi siete ripresi la strada. Ci siamo ripresi quello che c'era stato Via al Santuario Via al Santuario ci siamo ripresi quello che c'era stato tolto faccio una premessa in quegli anni nelle strutture ricettive subito a ridosso del passaggio a livello e in due punti di importante affluenza di ospiti di San Bartolomeo che sono il complesso San Barte e il complesso La Meridiana e alcune strutture ricettive turistiche ospitavano anche delle persone diversamente abili che venivano volentieri visto il vantaggioso aspetto climatico che abbiamo a passare molti periodi qua da noi e queste persone non sono più potute venire perché il paese si ritrovava decisamente tagliato in due e per poter arrivare nella zona mare per fruire di quello che può essere quello che oggi viene venduto come concetto elioterapico quant'altro devono fare dei giri improponibili essendo anche diversamente abili a volte muniti di carrozzelle e quell'altro diventava impossibile usufruire dei percorsi alternativi che erano stati più lineati non si poteva più passare in quei cosa saranno sei, sette, otto metri manco dieci forse una decina di metri di strada una decina di metri cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare è stata la miopia di quel periodo perché mi battevo continuando a dire se avesse questo passaggio a livello manifestato delle criticità degli incidenti quant'altro ma non aveva mai manifestato nulla è stato proprio un accordo preso così a cui non veniva mai data una risposta alle nostre interpellanze le nostre interrogazioni le nostre domande e basta ed è rimasto l'unico chiuso perché Sanremo di fatto li ha chiusi in prossimità della dismissione del sedime ferroviario e Sanremo aveva come dire come una netta cicatrice dentro il tessuto urbano e creavano dei seri problemi perché ricordo così tecnicamente vengono definiti tallonamenti quando qualche macchina rimane chiusa all'interno delle sbarre chiuse che creava dei seri problemi niente di tutto questo era successo da noi però si è continuati mi avevano levato le sbarre e mi è stata una bella siepe ma neanche tanto bella neanche tanto bella adesso però l'avete abbattuta adesso l'abbiamo abbattuta con orgoglio e preannuncio che probabilmente a marzo sarà di nuovo chiusa la strada per una quindicina di giorni perché saranno effettuate le operazioni quindi non avete ancora finito lì avete dei progetti adesso l'abbiamo aperta tutto quanto le ferrovie la chiuderanno quindici giorni perché da Diano Marina verso Andorra solleveranno tutti i vecchi binari i vecchi binari e dopodiché rimarrà a nostra disposizione in tutto e per tutto per quello che saranno le nostre intenzioni di riutilizzo del sedime ferroviario e quindi pista ciclabile assolutissimamente pista ciclabile speriamo che i tempi e le risorse consentano di farlo abbastanza in breve magari anche se non ancora ultimate rifinite in modo perfetto ma cercare di qualificarla questa zona perché ripeto è un rischio di degrado provando a colmare il gap politico che si è prima manifestato che stavamo citando caldeggio che i nostri parlamentari liguri ponendo la giusta attenzione perché secondo me il fatto di andare a vivere a Roma e fare la politica romana deve ancor più dare importanza a quelle che sono poi le realtà territoriali di queste persone qui quindi si devono occupare di quelle che sono le scommesse che renderanno vincente il nostro territorio e devo dire che una leva importante potrebbe essere il governo della regione perché questo governo regionale abbiamo dovuto vedere anche con il loro hashtag la mia Liguria credo sia un veicolo importante per far capire che abbiamo delle scommesse vincenti che dobbiamo vincere e quindi esorto e caldeggio molto i nostri parlamentari locali affinché i nostri consiglieri regionali con l'aiuto di noi tutti i sindaci ad impegnarsi su queste cose qui e la pista ciclopedonale come a suo tempo ma non credo sia una battaglia definitivamente persa quindi dovremmo rimetterci a lavorare anche lì come il vecchio il vecchio nuovo porto turistico di Imperia debbano essere delle scommesse che dovremmo di qui nel futuro prossimo vincere e quindi con l'impegno di tutti il porto turistico di Imperia interessa anche a San Bartolomeo ma sicuramente sì sarebbe un volano intanzitutto diventerebbe il porto turistico più importante dati alla mano se non sono cambiati negli ultimi anni a livello del Mediterraneo e quindi di per se stesso chi vive ogni tanto le realtà portuali perché quando riesco a dedicarmi qualche giorno mi piace fare qualche viaggio in barca soprattutto e credo che questa scommessa laddove la riuscissimo a portare a casa potrebbe dare veramente alla provincia di Imperia tutta un risvolto decisamente positivo faremo vedere lo speriamo naturalmente perché ce n'è assolutamente bisogno anche perché abbiamo tutti ancora nel cuore la ferita più recente che è quella dell'Agnesi ma in me non è l'unica purtroppo e quindi insomma in questo territorio le risposte vanno date anche per garantire un futuro a coloro che lo vivono e ci vivono e anche in prospettiva ai giovani oggi queste prospettive non sono così rose dobbiamo testimoniarlo a livello di cronaca voglio dire se posso dare ancora un inciso di attualità così ora dobbiamo impegnarci Monesi deve ritornare a essere Monesi e questo è un altro aspetto importante mi fa piacere che lo dica il sede di San Bartolomeo al mare messaggio che si deve capire quelli che sono patrimoni di un intero territorio non di due piccoli comuni tre piccoli comuni in qualche sede che sia genovese che sia romana pensa a Monesi solamente come una stazione sciistica e basta sbaglia sbaglia Monesi e si può vivere 365 giorni all'anno e può essere veramente e mi dispiace che i nostri competitori al di là delle nostre alpi qui ai nostri colleghi francesi di territori così forse non ne hanno di così belli e di fatto sanno valorizzare in giusto modo quindi forza rimbocchiamoci le maniche e anche Monesi deve riprendere i suoi fasti i suoi splendori grazie grazie davvero sindaco Valerio Urso anche per quest'ultima importante considerazione che volentieri rilanciamo e speriamo sia raccolta da sempre più amministratori per far capire l'importanza di questi territori al di là dei loro confini amministrativi grazie ancora Valerio Urso sindaco di San Bartolomeo al mare buon lavoro a lei e grazie al pubblico arrivederci una buona serata grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti